Il mondo del cinema Il mondo del cinema Il film è una produzione imponente Sono stati necessari infatti 7 anni per realizzarlo Ed è stato girato con un budget record di 65 milioni di dollari E una troupe composta da più di 700 membri di nazionalità diverse Dall'azione all'animazione con Ratchet e Clank Basato sull'omonima serie di videogiochi Che racconta la storia dell'ultimo individuo della sua specie Che deve fermare un alieno che vuole distruggere la galassia Apriamo il capitolo delle commedie con Cattivi vicini 2 Questa volta i protagonisti dovranno vedersela con un'intera confraternita di ragazzine scatenate Nel cast Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne, Chloe Grace Moretz, Selena Gomez, Dave Franco e Lisa Kudrov Rimaniamo negli Stati Uniti con American Ultra Che vede nel cast Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Walton Goggins, Topher Grace, Bill Pullman e tanti altri Storia di un ragazzo di provincia strafatto Che però a sua insaputa è un super agente addestrato e letale Passiamo ad un'altra sfumatura della commedia La commedia romantica con il piano di Maggie Protagonisti Greta Gerwig, Ethan Hawke e Julianne Moore Al centro del film c'è la storia di un insegnante new yorkese che pianifica e controlla tutta la propria vita Non ha molto successo in amore ma decide che è comunque arrivato il momento di avere un figlio da sola Ma il destino si sa, spesso ci mette lo zampino e le cose non vanno esattamente come ce le eravamo immaginate My Baker in Brooklyn, un pasticcio in cucina, racconta la storia di due ragazze che ereditano dalla zia una pasticceria Una desidera che tutto resti come prima, mentre l'altra vorrebbe rinnovare il look e anche i prodotti proposti Le due dovranno imparare a superare le loro differenze e lavorare insieme per salvare la pasticceria e tutto quello che rappresenta nelle loro vite È sentimentale ma non è una commedia Tokyo Love Hotel che si svolge nell'arco di un giorno e di una notte a Kabukicho Il quartiere a luci rosse di Tokyo dove si intrecciano tante storie diverse sotto gli occhi rassegnati del direttore di uno dei tanti alberghi dell'amore Per finire escono ben tre film iraniani A Girl Walks Home Alone at Night Racconta una strana storia d'amore in un quartiere che raduna tutta la perversione e il malaffare possibili Nahid racconta la lotta di una giovane donna divorziata per poter tenere la custodia del figlio ma anche risposarsi o comunque vivere con il suo nuovo compagno Le sue scelte la metteranno a confronto con la comunità nella quale vive E Dragon Rives è invece un'avventura horror Tutto a origine nel 1965 Il giorno dopo un attentato al primo ministro in Parlamento E ruota attorno al sospetto suicidio di un prigioniero politico Il nostro appuntamento con le novità in uscita questo weekend si chiude qui Ma vi aspetto tutti i giorni sul sito www.visionair.fm E aspetto anche le vostre recensioni sulla pagina Facebook di Visionair A presto e buon cinema a tutti! A presto e buon cinema a tutti! A presto e buon cinema a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!